Un uomo e una donna parlano del loro trasloco. Quando traslocheranno? Penso che dovremmo decidere la data del trasloco. Trasloco e chiamare una ditta per i traslochi. Sì, stavo proprio guardando alcune ditte per traslochi. Non voglio spendere troppo. Sono d'accordo. Questa ditta fa alcuni sconti. Per esempio, scontano dal 10% se prenotiamo almeno un mese prima. Entro un mese prima? Allora dobbiamo traslocare dopo il 15 dicembre per avere lo sconto. Sì, e c'è uno sconto ulteriore se prenotiamo per un giorno feriale. Un giorno feriale? Beh, lunedì ho sempre una riunione e la mostra è di martedì e mercoledì, quindi... Venerdì andrebbe bene, perché potremmo sistemare la nuova casa durante il fine settimana. Sì. Ah, aspetta. Qui dice 15% in meno dal lunedì al giovedì e 5% il venerdì. Allora, cosa facciamo? Vada per la soluzione più economica possibile. Ad ogni modo, io avrò finito con la mostra a dicembre. Quando traslocheranno? Un uomo e una donna parlano del loro trasloco. Quando traslocheranno? Penso che dovremmo decidere la data del trasloco e chiamare una ditta per i traslochi. Sì, stavo proprio guardando alcune ditte per i traslochi. Non voglio spendere troppo. Sono d'accordo. Questa ditta fa alcuni sconti. Per esempio, scontano dal 10% se prenotiamo almeno un mese prima. Entro un mese prima? Allora dobbiamo traslocare dopo il 15 dicembre per avere lo sconto. Sì, e c'è uno sconto ulteriore se prenotiamo per un giorno feriale. Un giorno feriale? Beh, lunedì ho sempre una riunione e la mostra è di martedì e mercoledì, quindi... Venerdì andrebbe bene, perché potremmo sistemare la nuova casa durante il fine settimana. Sì. Ah, aspetta. Qui dice 15% in meno dal lunedì al giovedì e 5% il venerdì. Allora, cosa facciamo? Vada per la soluzione più economica possibile. Ad ogni modo, io avrò finito con la mostra a dicembre. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.